Dio Dai, mi hanno inculato tutte le risorse Mi hanno inculato pure la testa del lupo Tanto dovete essere... Oh ma vi troverò prima o dopo Vi troverò tutti Prima o dopo Che ora come ora non c'ho più un cazzo Quindi facciamo che mi trovo un po' più dopo, ok? Minchia! Ci avrei scommesso i coglioni Ehi, fermo! Eh? Sei vero, ma... Ah, ah, si, si Ah, ok, va bene Attenzione, attenzione! Una satchel, vabbè, buono Non faccio un cazzo però vabbè No faccio un po' di pari No no vai vai tranquillo ho sentito pestare qui in giro mi sono preso un attimo paura. Ma c'è qualcuno, c'è gente, c'è gente, fai attenzione. Sì sì sento che c'è casino, c'ho 230 frammenti posso farmi un muro, torno alla base mi sa che non è più sicuro. Eh c'è gente occhio eh, stanno girando apposta. Eh semmai posso prendere il cinghiale che c'è davanti casa vostra. E' morto malissimo, è tutto incrociato, è tutto vagato. Ok sono arrivato a casa sano e salvo. Ma quanto è figa però, quegli spuntoni che scendono da giù. Vicino ci sei? Non capisco gli sono entrati in casa qui. Ok gli sono entrati in casa. Hanno ammazzato il vicino qua. Eh sì. Orretto. Ora che stiamo sopravvivendo solo noi in sta zona eh. Aia, 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 aia. Cazzo. Andiamo a vedere qua se ci sono... I brutti natroccoli qui. Buonasera. Sono Roman. Ciao Roman. Sì. Ehi la. Che è questa... Bella raga! Che è sta... Che è sta base davanti qui? Roba vostra? Oh se vuoi faccio il discorso del Papa. Aspetta un attimo, aspetta qua eh. Vai vai! Il discorso del Papa ma che cazzo dice? Scusa, dove cazzo è lo shop? No, mi ha tirato la torta, porco Dio. Ah, vendono il revolver ma non vendono le munizioni. Fratelli e sorelle. Siamo qui riuniti per la Messa del Santissimo Natale. Rendiamo grazie a Dio. Questa sono di merda. Rendiamo grazie a Dio nostro Signore. Ora recitiamo... Vedo la luce! ...un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia al Signore con te. Eh, questa non la so, mi dispiace. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Diciamo anche un Padre Nostro. Eh, vabbè, ma non le so! Padre Nostro, che sei nei Cieli, si è santificato al tuo nome, che venga al tuo Regno e sia fatto la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro buono quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti. Non so parlare. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bravo! Uh! Grande Papa! Wow! 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 Granata? VATICAN SPECIAL FORCE! CORPA SMG! che ho detto sei preso paura tranquillo hai usci tutte candela ahi che ha detto posso dare una pietrata in testa? te la posso dare una pietrata in testa? guarda si è messo pure in posizione si è messo pure in posizione che brutte persone siamo negri e siamo per il potere nero potere nero se vi regalassi una cosa lo penso io vai tranquillo raghi qui per terra su su prima che fugga venite qui oh roman 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 quando fede dice queste stronzate sei autorizzato a pestarlo ah ok è quello negro insomma eh si 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 fede fede è quello negro ok ok minchia c'è una granata con questa cosa adesso facciamo il delirio via 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 ma non ha fatto un cazzo mi aspettavo chissà cosa non ha fatto un cazzo che troiato guarda lì dove c'hanno una gallina però gliel'ammazzo si imparano a tenere le galline magari vedi 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 5-6 ma gliele togliamo per te ma che cazzo guardate come si picchiano fungo fungo Uuuuh, altro loot! Non ci credo! NON CI CREDO!